Dunque la cronaca in apertura oggi per un fatto di sangue che è avvenuto a Popoli nella zona prospicente, il fiume dove è stato ritrovato un corpo senza vita. Sul posto c'è anche il nostro Luca Pompei che ci dà i dettagli, quello che si è appreso almeno fino a questo momento su questo omicidio, quasi certamente questa l'ipotesi da seguire. Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carmine, si conferma, si tratta di omicidio. La vittima è Fulvio Leclerc, 55 anni, italo-belga disoccupato. Proprio alle nostre spalle qualche istante fa la salma è stata caricata e portata via dalla carro funebre direzione Obitorio dove sarà certamente svolta l'autopsia. Fulvio Leclerc dicevamo, italo-belga di 55 anni disoccupato, ieri sera avrebbe avuto un violento litigio con un uomo da capire se si tratta di un semplice conoscente o di un vicino di casa. La scena del crimine potrebbe essere proprio la casa dell'uomo. Infatti in questo momento, mentre vi stiamo parlando, il magistrato sta facendo un sopralluogo proprio nell'abitazione dell'uomo che abitava qui in collina, sempre incontrata De Contra. Che cosa è accaduto? È accaduto che l'omicida, dopo essersi reso conto al culmine di questa lite di aver ucciso Leclerc, lo avrebbe caricato su una carriola ancora in pigiama e lo avrebbe trasportato qui sul greto del fiume per disfarsene, gettarlo nel fiume sperando nella corrente che lo potesse trascinare via. Purtroppo per lui, per l'omicida, il corpo invece è rimasto incagliato tra le rocce ed è un passante che questa mattina si è accorto della cadavere, ha chiamato subito i soccorsi su posto, i sommozzatori dei vigili del fuoco. Adesso provo a darvi anche una prospettiva diversa. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti, lo hanno tirato via dalle rocce dove il corpo appunto si era incagliato e hanno aspettato l'arrivo dei carabinieri per i consueti rilievi. Adesso stiamo raggiungendo insieme al collega Claudio Lattanzio del Quotidiano Il Centro proprio il punto esatto in cui è stata depositata la salma dell'uomo con i nastri bianchi e rossi. Qui la scena si è ovviamente spopolata con il carro funebre che sta già andando via. Ci stanno dicendo comunque di allontanarci. In ogni caso Carmine, l'uomo, questo conoscente vicino di casa, insomma ancora da capire, è attualmente ricercato. Stanno cercando di individuarlo per portarlo in caserma per cercare di capire che cosa è accaduto. Ma ripetiamo, l'omicidio sarebbe avvenuto nell'abitazione della vittima. Ricordiamo Fulvio Leclerc. Ovviamente maggiori sviluppi nel corso della giornata, soprattutto per capire se riusciranno a rintracciare questo uomo e a, come dire, stabilire un fermo per lui se è davvero lui il responsabile di questo omicidio. Ovviamente maggiori particolari nel corso della giornata. Se non hai domande, Carmine, io ti restituirei. Grazie, grazie Luca. Insomma, è già tanto quello che tu ci hai potuto riferire, proprio in presa diretta. Noi ovviamente ci rimettiamo alle prossime edizioni per avere più particolari e eventuali sviluppi su questo fatto di sangue.